Un'iniziativa presa a livello nazionale e approdata anche a Lecce dove i movimenti dei consumatori insieme alla regione Puglia si sono uniti per il rilancio del settore agroalimentare che cara a picco in questo periodo per via dei costi energetici e della siccità. Siamo qui in questo nuovo sito dove si dà spazio al prodotto agroalimentare, si dà spazio a quella categoria dei contadini che comunque si trovano in difficoltà in questo periodo, soprattutto in questo periodo con i prezzi del carburante alle stelle, i prezzi dell'energia alle stelle. Quindi si cerca in questi luoghi di preservare una certa qualità ad un prezzo che a volte probabilmente non è calmerato, però si cerca di mantenere un prezzo di mercato con un prodotto buono. Con il movimento consumatori siamo all'interno di questo progetto e siamo contenti che sia stato istituito un nuovo luogo, un nuovo sito proprio qui a Lecce. Acquistare ad un prezzo più basso alle volte non è sempre convenienza perché si va a scapito della qualità? A volte non è spesso conveniente, però spesso lo si fa per necessità, quindi non bisogna condannare assolutamente o agitare chi acquista a prezzi più bassi, ma bisogna mettersi una mano sulla coscienza e capire che il periodo è quello che è e le famiglie devono comunque sfamare i propri figli. Quindi è inutile cadere in luoghi. È chiaro che in questi luoghi si cerca di mantenere una qualità alta, ma ahimè il consumatore quando non riesce ad avere questa qualità deve ricorrere ad altro e non va assolutamente additato ma anche giustificato.